E' notizia di oggi mister, Osvaldo Bagnoli è tra i più grandi della storia del calcio italiano inserito dalla FIGC nella loro fame appunto. Beh è chiaro che queste cose qua fanno bene a tutti e fanno piacere a tutti, e a me fanno piacere anche a me, adesso cercherò di leggere qualche cosa su questa cosa qua per vedere insomma cosa mi dicono insomma ecco. Insieme a dei grandi nomi del calcio italiano e una grande impresa l'ha fatta anche lei, inutile ricordarlo con il Verona, il piacere di ritrovare anche tanti campioni che l'ha allenato a questa cena di Natale. Sì qua sono, di fatto io quello che dico, quando sento quelli che mi dicono eh l'ha vinto quello scudetto, no l'ho vinto perché ho trovato un gruppo di ragazzi che hanno fatto quello che hanno fatto, ma il merito è molto suo, non mio insomma.